Palazzo Pitti ospita i disegni di Emilio Pucci, il grande artista fiorentino della moda italiana. L'esposizione, promossa dall'ente Cassa di Risparmio di Firenze, mostra il periodo iniziale della carriera di Pucci durante il decennio 1950-1960. Finalmente è possibile ammirare i disegni inediti dello stilista scoprendo la sua passione per l'arte. L'origine della creatività di Emilio Pucci torna nuovamente a Palazzo Pitti. Galleria del costume Palazzo Pitti, Eva Pratesi, C10. Grazie a tutti.